Finché c'è lotta, fuga, resistenza contro il dolore, ma è ovvio, sei in fight or flight, risposta a combatti, fuggi congelati? E da quando ho iniziato a parlarne tantissimi anni fa, la ricerca su Google di questa espressione, risposta a combatti, fuggi congelati, è aumentata esponenzialmente, sarà un caso? Chi lo sa? E comunque, ricorda che finché sei in questo stato di fight or flight, che è uno stato fisico, fisiologico, di lotta contro, il tuo corpo non può guarire, che che ne dica la TV. Vuoi scoprire di più sulla fight or flight, risposta a combatti, fuggi congelati e quindi come invece accedere alla risposta di guarigione? Scarica il mio ebook più audio traccia, kitstarter, benessere, lo trovi qui sotto nel primo commento sotto questo video. Sollievo per il dolore pelvico cronico femminile dalla mia esperienza oltradecennale?